Il gossip italiano è in fermento per l'annuncio del matrimonio tra i due ex concorrenti del grande fratello VIP che hanno catturato l'attenzione del pubblico con la loro storia d'amore. Dopo cinque anni di relazione, i due hanno deciso di compiere il grande passo, e i fan non potrebbero essere più entusiasti. I giovani si sono conosciuti durante la loro partecipazione al grande fratello VIP, un reality show che ha messo in luce non solo le loro personalità, ma anche il forte legame che si è creato tra di loro. La loro storia è stata caratterizzata da momenti di grande passione, ma anche da sfide e incomprensioni, tipiche di ogni relazione. Tuttavia, la coppia ha dimostrato di essere in grado di superare ogni ostacolo, consolidando il loro amore nel tempo. L'annuncio del matrimonio è arrivato in un momento di grande emozione per entrambi. Parliamo di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano. Federica ha rivelato di aver ricevuto un anello di fidanzamento da Gianmaria, il che ha scatenato una serie di congratulazioni da parte dei fan e degli amici. È l'uomo che ogni donna vorrebbe avere accanto, ha dichiarato Federica, esprimendo la sua felicità per questo importante passo. La coppia ha già iniziato a discutere dei dettagli del matrimonio, che si preannuncia come un evento da non perdere. I preparativi per il matrimonio sono già in corso, e i due stanno valutando diverse opzioni per la cerimonia. Si parla di una celebrazione intima, circondati da amici e familiari, ma anche di un evento più grande che possa coinvolgere i loro fan. Gianmaria ha espresso il desiderio di rendere il giorno delle nozze indimenticabile, mentre Federica sogna di indossare un abito da sposa da favola. Inoltre, la coppia ha accennato alla possibilità di allargare la famiglia in futuro. Stiamo iniziando a parlare di matrimonio e di un figlio, ha rivelato Federica, facendo sognare i fan con la prospettiva di un futuro insieme ricco di amore e felicità. La notizia del matrimonio ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i fan della coppia, che non hanno esitato a esprimere il loro supporto sui social media. Molti hanno condiviso messaggi di congratulazioni e affetto, sottolineando quanto sia bello vedere una storia d'amore così autentica e duratura. La coppia è diventata un simbolo di speranza per molti, dimostrando che l'amore può superare qualsiasi difficoltà.